Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo vlog, oggi è domenica 9 febbraio, adesso vi spiego un po', come potete, come avete visto da youtube, manco tipo da due settimane praticamente, non ho fatto quasi praticamente nessun video fino appunto ad oggi, questo sarà un vlog credo molto parlato, però va bene, niente allora, come l'ultimo vlog appunto ero su a Torino, ora come vedete sono a Roma, ho cambiato completamente location perché sono tornata la scorsa settimana, siamo tornati martedì, oggi è domenica, siamo tornati più o meno quasi 5 giorni fa, scusate i miei capelli, non so che cosa c'è, vabbè, i miei capelli vanno dove vogliono loro, comunque stavo dicendo che siamo appunto tornati a Roma martedì e niente, prima sono stata a Torino appunto perché il domenica 2 febbraio, quindi la scorsa domenica praticamente una settimana fa, c'è stato il matrimonio di mia sorella insomma, come vi avevo già detto, vi avevo già avvisato, insomma, è stata una giornata davvero bellissima, molto molto divertente, mi sono divertita, mi sono scatenata, praticamente ho mangiato tanto perché ho mangiato tanto e niente, mi sono anche, ero anche stanca perché ci siamo alzati praticamente alle 7 del mattino, quindi eravamo praticamente stanchi e il giorno prima eravamo andati a dormire tipo a mezzanotte l'una perché avevamo fatto le ultime cose, quindi avevamo dormito praticamente, io ho dormito praticamente poco perché insomma dormivo, ho dormito un po' a scatti praticamente, quindi anche perché ero ansiosa e quindi tutto, quindi ero così, comunque e niente, quindi è stata un, però a parte la stanchezza, insomma, la giornata è stata davvero bellissima e ovviamente vi posterò delle foto, insomma, dei video, i video non lo so, ma forse un video, due video ve li mostro, vi mostro anche delle foto, insomma, così vi faccio vedere anche come ero vestita e insomma tutto, vi faccio vedere anche il famoso vestito, visto che è da tipo due mesi che vi rompo con questo vestito, finalmente ve lo faccio vedere e niente, poi questa settimana non ho praticamente vloggato perché, vabbè, c'è stato il mio fidanzato a casa che appunto ho fatto le ferie, quindi è rientrato praticamente ieri a lavoro e quindi aspettate perché mi sono cercato un occhio, va bene, e quindi non ho praticamente vloggato, poi sono stata anche male, ho avuto insomma la bronchite, la congiuntivite, quindi mi stavo anche affogando, lasciamo perdere, quindi niente, ho avuto un po' di tutto questa settimana, vabbè, però per fortuna adesso sto meglio, sono guarita e vai, e niente, quindi niente, oggi sono stata a casa, insomma, e sto giocando a The Sims, come potete notare, e sto facendo anche i salatini che sono nel forno che adesso devo spegnere perché sono fatti. Ecco qui, questi sono i salatini appena, 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 appena usciti dal forno, quindi sono bollenti, infatti non tocco la teglia se no mi brucio, comunque questi sono i salatini, alcuni si sono aperti, però vabbè, fa niente. Qua ho fatto, vabbè, qua dentro ci ho messo i viussel e un po' di salame perché mi era avanzata la pasta sfoglia perché i viussel erano finiti, quindi per non buttare ovviamente la pasta sfoglia, e ho fatto, ho fatto due cosini, insomma, con dei viussel e un po' di salame, e quindi niente, questi qui. Quindi niente, adesso aspetto a che si raffreddano e poi li metto, li metto, insomma, nel frigo. Vi metto anche delle foto e dei video del matrimonio di mia sorella, quindi, quindi ve le metto, non ve ne metto tantissime, però ve ne metto un pochino, un po', almeno così vedete come è andata quella giornata e vedete anche il mio vestito. Buongiorno, oggi è lunedì 10 febbraio, scusate il mio vestito. aspetto, anche i miei capelli sono, sembro una pazza, però vabbè, lasciamo perdere. E niente, anche il mio aspetto non so, infatti non so se mi sto prendendo la febbre o l'influenza, spero di no perché sono guarita tipo una settimana fa, però mi sa che mi sto ammalando di nuovo perché ormai mi conosco e quindi è così, però vabbè. E niente, insomma. Oggi, stamattina non ho fatto, non ho fatto quasi niente, no? Perché diciamo che casa l'ho pulita ieri, quindi non ho fatto un gran che oggi. Sono le 4.10 del pomeriggio e sto per fare merenda. Volevo farmi, volevo farvi vedere anche il tempo che non è dei migliori qua a Roma perché è tutto nuvoloso e fa anche freddo perché tira un venticello abbastanza freddino. Ecco, come vedete è tutto nuvoloso, è anche piovuto, infatti il pavimento del giardino si può guardare, ci sono tutte le foglie e fa anche freddo perché ieri faceva caldo, invece oggi fa più freschetto, insomma. Questa sarà la mia merendina di oggi. I ringo, in realtà è da un casino di tempo che non li mangi i ringo, cioè proprio veramente da una marea di anni, quindi sono, insomma, di nuovo, li assaggero di nuovo, ecco. E niente, ovviamente anche con il succo di frutta, ovviamente. Buon pomeriggio, oggi è martedì 11 febbraio. Scusate il mio aspetto, comunque. Sono le 5 del pomeriggio, ecco, perché vi dico buon pomeriggio, perché stamattina non ho vloggato, vabbè. E niente, volevo scusarmi del mio aspetto, ma non sto tantissimo bene, infatti. Sono tipo guarita una settimana fa dalla bronchite, adesso di nuovo, però vabbè. Fa niente. Non ho la febbre, però ho i sintomi della febbre, quindi la mia temperatura va tra i 37 e i 37 e mezzo, quindi non è proprio febbre, però è sindrome influenzale, tipo una cosa del genere. E quindi non sto benissimo. La mia faccia è sconvolta, ho la faccia praticamente sconvolta. E anche i miei capelli non... Lasciamo perdere. Tanto dopo me li devo andare a lavare. E niente. Io sono sotto le coperte, come potete ben vedere. Vi sto guardando il segreto. E niente, oggi è la giornata da malata, praticamente. E niente, vabbè. Ho anche le occhiaie, ma va bene. E insomma, tutto qui. Stamattina è anche venuto mio suocero, che ha fatto dei lavoretti qui a casa, insomma. Mi sono dimenticata di dirvelo. E quindi stamattina non ho potuto vloggare, perché appunto c'era mio suocero, quindi non ho vloggato. E quindi niente, comunque è questo. Adesso sono sola e... E poi, mamma mia, sono distrutta. Non facendo niente, ma sono praticamente distrutta. Mi fanno male le tempi, è qua da morire, mamma mia. E vabbè. Io concludo questo piccolissimo vlog qui. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!